Ciao a tutti, ciao, sono il ferro dell'Eylander Pub, siamo qui a un panino al giorno, oggi vi presenterò uno dei panini miei novità, si chiama Chicken Burger, che vi consiglio di venire a provare perché è molto molto interessante come abbinamento di gusto. Prendiamo il classico pane dell'hamburger, ci andiamo a collocare delle fettine di zucchina grigliata sotto, ci mettiamo la classica cotoletta di pollo, un cucchiaio di pomodorino tritato da bruschetta, una fogliolina di insalata e una velata di salsa rosa o salsa piccante a piacere, e la nostra salsa piccante è una salsa rosa che facciamo noi piccante. Ecco, questo semplice panino, come potrebbe sembrare, è qualcosa di super super gustoso che vi consiglio di venire a provare, si chiama Chicken Burger, classico, non abbiamo dato un nome che si poteva dare, un nome suo particolare, ma nella sua semplicità ragazzi è un panino veramente, veramente eccezionale. Ciao a tutti da Un Panino al Giorno.